Ragazzi, prima che inizio il video vi ricordo una cosa importantissima Arriviamo ai 650.000 iscritti entro l'1 gennaio, quindi l'inizio del nuovo anno Per ricevere tutti voi iscritti, appunto, una sorpresa veramente fuori di testa E questa volta, raga, non sto scherzando, fidatevi di me, voi iscrivetevi Detto questo, buona visione Ragazzi, oggi veramente mi sono superato Avete letto dal titolo, quello che andrò a fare è veramente qualcosa di fuori di testa Donare 1000€ alle persone, ogni chi che faranno il live Anzi, più che le persone, ai miei fan E ve lo dico, cioè, ragazzi, ve lo devo già per forza dire Se questo video qui non arriva a 50.000 like Non ci sarà assolutamente un prossimo episodio Perché, ragazzi, dai, c'è, cavolo, 1000€ ogni kill Veramente divento povero, devo andare sotto i punti dopo questo video Chiaramente, però, prima di vedere se vi ricordo, lasciate un bel like fondamentale Iscrivetevi al canale, cosa ancora più fondamentale Perché se arriveremo ai 600.000 iscritti entro l'1 gennaio Quindi, entro l'inizio del nuovo anno Tutti voi riceverete una sorpresa veramente fuori di testa Quindi, ragazzi, iscrivetevi, seguitemi su Instagram e TikTok Quindi, di descrizione, vedete questo, ragazzi E sono pronto a spendere tutti i soldi che ho Ragazzi, la mia vittima sarà proprio lui Neil Hal È il mio carissimo amico, ragazzi, che ho conosciuto da poco tempo E, tra l'altro, cosa molto importante E anche abbastanza forte su Fortnite E questo qui è un bel problema, sinceramente Ragazzi, ragazzi, fidatevi di me Che già è voluto fare 1000€ Che poi, se più lui è forte, magari fa anche tante kill Sarà veramente un casino Ora, andiamo nella sua diretta Non so che cavolo è Due punti, red, circle, due punti, nuova silva Vabbè, ragazzi, non so che cavolo sta facendo Neil in questo titolo Però, true sketch in my life Eccolo qua Già in partita su Fortnite Quindi, magari, gli scrivo subito la cosa Attenzione, vediamo la sua voce, ragazzi Ti trovo la sua voce Il game del giorno, ragazzi Sono un pochino freddino, eh Un pochino freddino 1000€ ogni, ogni kill Ragazzi, l'ho appena scritto Vediamo che cavolo fa Vediamo il volume Allora, ragazzi, dove andiamo? Eccolo qui Allora, fammi vedere un po' Potremmo andare a Foschi Ma sì, perché no? Andiamo a Foschi Andiamo a Foschi Vediamo appena legge, ragazzi Vediamo appena legge Bella Neil, 1000€ ogni kill Ma, Zerby, grazie, ma perché 1000€ ogni kill? Ma che dici? Non ci credo Come sai, Zerby Ragazzi, non ci crede Ragazzi, non ci crede Adesso gli scrivo, gli scrivo Tutto bene, bro Ma non ci credi Perché non ci devi credere Sono veramente 1000€ ogni kill Ok, ragazzi Vediamo Neil Vediamo Neil appena lo legge, ragazzi Quello lì è un pompa No, quello lì non è un pompa Perché non me lo ricordo Sicuramente, ragazzi, eh Neil, come vi ho detto, ragazzi È anche abbastanza forticello Ciao Ecco, perfetto L'ho detto che era forte L'ho detto che era forte Tutto bene, bro Fidati 1000€ a kill, dai, eh Ah, 100€ a kill 100.000, no? No, 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 no Sbagliato Ma stai trollando No, 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 no Ragazzi, ragazzi, ragazzi Aspetta 1000€ Ho sbagliato a scrivere Se c'è una scommessa in corso Tra i yard, eh Aspetta, cioè Mi preparo Ma stai trollando Frate, ma stai trollando Zio Non ci credo Oggi, ragazzi Sono qua finalmente Per presentarvi Core Core, ragazzi È una piattaforma di gioco Multiplay Alimentata dalla Real Engine Chiaramente È solo per PC E la cosa bella È che permette A tutti gli utenti Appunto presenti Sulla piattaforma Di creare un proprio gioco È la cosa bella Che permette A voi utenti Appunto di creare I giochi Presenti su quella piattaforma E voi direte Zerbi Ma in che senso Creare i giochi Cioè io non so Assolutamente Nessun linguaggio Di programmazione Come cavolo faccio Beh, è molto semplice Per creare i giochi Basterà registrarsi E ci si metterà Veramente tipo 10 secondi E poi Inserire il proprio avatar Per esempio, ragazzi Io ho provato Kingdom Fell E vi dico la verità Ragazzi Sono stato oggi Tipo Due ore Stavate da giocarci Perché probabilmente È fighissimo Fatto molto bene Infatti ragazzi Sinceramente Vi consiglio di provarlo Di ultima cosa Ma non meno importante Che non vi ho detto È che il corso Ospitando un survival game jam Con un premio Di 15.000 dollari E niente Anche qui Tutto quello che dovete fare È iscrivervi Al link in descrizione Se volete provare appunto Questa piattaforma Completamente gratuita Vi conosciate Il primo link in descrizione E a questo punto Direi Buon divertimento Forse ci può essere Una scommessa Non sarà sicuramente di 1.000 euro Perché 1.000 euro È qualcosa di sgavato Ciao Leonardo Ciao Capo Come state ragazzi Non ci crede ragazzi Va bene È sgavato come roba Però Vedremo Vedremo L'accetto L'accetto Prate 1.000 euro a kill Ma che cos'è ragazzi Ma secondo voi Allora Allora ragazzi Nei stanno andando a foschi Su Youtube è ancora peggio Sì sì lo so Attenzione Ok Tutto tranquillo Pensa che non sia vero Ragazzi La cosa bella Che lui Pensa che non sia vero Pensa che sia una cavolata Ragazzi Infatti vedete che è tutto bello Tranquillo Non so cosa gli sta per arrivare Attenzione ragazzi Nel self fight Potrebbe fare la prima kill Nail È bianco il ragazzo Lo senti? Ha detto Zerby Ragazzi Ha detto Zerby Oh Attenzione ragazzi Ok ok Ha fatto la prima kill Vediamo cosa dice C'è un altro Oh ragazzi C'è un altro No ragazzi Non ditemi che gli devo tornare 2.000 No per favore 2.000 no Per favore Nail fai in serio 2.000 no Nail Ok ragazzi ho paura Oh cacchio ragazzi ho paura Oh cacchio ragazzi ho una paura pazzesca Vai Nail No No Ok ok Oh no 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 Sì Chat Ma che senso Meno male che è morto Ragazzi Meno male che è morto Ok andiamo con i primi 1.000 euro Gli darò 2 tentativi Pay with Paypal Ci vediamo tra un attimo Ragazzi mi ricordo Stato una cosa Gli ho appena donato Dovrebbe apparire la donation Tra poco ragazzi In teoria Forse proviamo per queste Eccola qui Eccola qua Eccolo Eccolo No aspettate raga Eccoli che cosa No raga Nail Ma eccoli che cosa raga Ma qualcuno ha donato No raga non ha capito Ragazzi non ha capito Eccolo qui Eccolo qua Ma che Ma che cosa Nail Che cosa Stai chiedendo fra Ha donato 1.000 euro Ma questo Comfazzo malato Ma che cosa Ha donato 1.000 euro 1.000 euro Zerb Ma che cosa Ma sto tornando Ragazzi ma che cosa Dici 1.000 euro Ma che cosa Dici ma che No O Zerb Ascolta Ascolta Io pensavo Tu stai scherzando Ok Ma che cosa Stai a fare E' cazzetissimo E' cazzetissimo 1.000 euro Ragazzi mi farei uno scherzo Mi giuro Mi farei uno scherzo Ma che No Io ho visto 1.000 euro Di gioco Fra sono andato adesso A vedere Su stream Su la stream Fra Ragazzi Ma che Ragazzi Ti messo a tryardare Nail Non ci posso credere Mamma mia Speriamo che non faccia Tante kill Hociato 1.000 euro Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Attenzione No 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 Un'altra kill Ragazzi Ragazzi Se torna adesso Tipo E' una presa in giro E' una presa in giro Ragazzi No Ragazzi potrebbe fare 3 kill Ragazzi potrebbe fare 3 kill Ok Così è morto Dai che Dai che Così ci muore Dai che Così Non ci muore Oh cacchio ragazzi Oh cacchio Che brutta situazione Nail potrebbe fare Una kill Un altro Dovrei dire Oh ci muore Ci muore Ci muore Che cosa Che fare Ragazzi Ragazzi C'è appena morto Siamo in pubblica Ragazzi C'è appena morto Gli do un altro tentativo Ragazzi Gli do un altro tentativo Non lo so Però ora gli dono Altri 1.000 Dai si ragazzi Gli diamo veramente L'ultimo tentativo E poi basta Ragazzi Dobbiamo rifarlo Ragazzi Dobbiamo rifarlo Zerger Euro donate 1.000 euro donate Ragazzi Ora facciamo donate Ragazzi Gli ho appena donati Ragazzi Gli ho appena donati Vediamo se appare qualcosa In chat Ragazzi Anche l'affitto Non è un problema Ragazzi Attenzione Ragazzi Eccoli 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 822 euro Ma che cosa dici Ma che cosa dici 822 euro Ma ti farei normale Ma che cosa dici Non è possibile Ragazzi Non ci sta credendo Ragazzi Sono tipo di quei Ma che cosa Ragazzi Ragazzi Non ci sta credendo No Spera 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 Servi qua Tu non mi trolli Ok Tu qua Non mi trolli Te lo scordi Frate Te lo scordi Frate Io adesso vado su paypal Io vado su paypal Ragazzi Stai controlando su paypal Non ci crede Bra ma che cosa stai dicendo Zio Bra ma ci sono veramente È certo che ci sono Non faccio scherzi Daniel ti voglio vincere altri soldi Ti voglio vedere vincere altri soldi Ragazzi Adesso ci provo Ragazzi Attenzione Attenzione No 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 Nail Non fare la kill No Nail Tutto meno questa kill No No L'affanta Non ci posso credere Ce n'è un altro No ragazzi No Nail non puoi 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 Non è fattibile Non è fattibile come roba L'abbiamo appena fatta Lui non ci credo Ma io l'abbiamo appena fatta Giuro Ragazzi Non lo vedo come una roba possibile Ok Non lo vedo come una roba possibile Adesso 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 non lo vedi Che cos'è Aspetta No 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 Adesso Mi sto Aspettate 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 Fra Eccolo Eccolo Fra Eccolo 2000 euro Fra Eccolo Eccolo No aspetta Sono due Due euro Due mila Due euro Due mila Due mila Sono due euro Due mila Non ho capito Cosa sto facendo Cosa sto facendo Non è possibile Non è possibile Io spacco tutto No Non è possibile Non ci credo Fra 2000 euro Ma sei serio Ho fatto la passia L'ho fatto Rega Non è possibile Non è possibile Fra Non ci posso 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 Chiudi Chiudi il paypal Non so che cosa Stia facendo Chiudi immediatamente Frate Basta Basta Sto facendo troppe passie Non è possibile Sto facendo troppe passie Nade Rega mi sto sentin male Non ci posso Sentin male Rega Non è possibile Altre mille Giù donato Sta pure arrivando uno No Neil non fare un altro Kill per favore Neil fatti uscire Per favore Neil No Ma sono dei bot Se ne vuoi Rega Volete non mi guadagnare No 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 Non sta andando per niente Bene Altre mille Ragazzi Le ho appena Donato Quattro Rega Rega Le ho appena Donato Deskrivi Guarda Direttamente In modo che Quinto Almeno Non ci posso Credere Eccoli Altri mille Altri mille L'ho fatto Non sto capendo Chat Non ho scritto Neanche messaggio Rega 822 euro Di No Ma perché ho fatto appena Ma sei serio Basta Ragazzi non sa più cosa fare Diventerò povero Basta Non vuole più fare nessuno top donator Non vuole più fare nessuno top donator Cosa ho fatto ragazzi Non è possibile Non è possibile Non c'è problemi economici adesso Non ci credo Guardate la chat Non toccare più niente Non toccare più niente Perché io non troverò più un nuovo top donator Non ci sarà più nessun altro top donator No 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 Dai sei altri mille euro tu Non fatti uccidere Fatti uccidere per favore Fatti per 200 Anzi io ti voglio molto bene Perché tu sei altri mille euro No 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 Tu sei altri mille euro Vieni qua Bravo fra No Non li dona Non li dona Non li dona Non è possibile Ragazzi siamo arrivati a un limite Ragazzi c'è ancora un altro Ragazzi se qui è questo devo donargli 2000 Se qui è questo 2000 ti devo donargli Eh vabbè Anonimo Ciao ciao Non ce la posso fare Sto finendo i soldi ragazzi Non sto scherzando Guarda c'è il servian che sta donando mille euro Mille euro Mille euro a caso Ragazzi Ragazzi sto infazzendo Ok Non è più possibile Ragazzi Non è più possibile Ragazzi l'ho appena fatto Non è letteralmente possibile Ragazzi l'ho appena fatto 2000 Gli stream Nei devi smetterla Non so quanto Nei devi smetterla Sicuramente adesso stanno spandolo Ma da un euro Devo donargli altri mille Per trollarmi apposta Altri mille ragazzi Devo fare Altri mille Gli ho appena fatto altri mille ancora Ma sto scherzando i soldi Ma perché Adesso ho donato un euro Per forza Mille e due Mille e duecento euro Ragazzi No ragazzi 1800 euro 1644 Ancora E altri 800 E altri 800 E altri 800 Che soldi Basta nel Fai in serio Basta nel 822 ancora Ma servia Ma basta 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 No ragazzi Io ti voglio bene Ok Io ti voglio bene Io ti voglio assolutamente Tanto Tanto bene Faccio una cosa Perché Guarda Poi Poi penso che Quando ci incontriamo Ti devo uscire Cioè Ti devo offrire Tutte le genere Io Quindi Non voglio Facciamo una cosa Facciamo una cosa Perché io Non ce la faccio Che Non è più possibile Anzi aspetta Però Altri mille In effetti Non riprenderei No Nenno Non è il no Non è il no Non è il no Puttani Zerbian Zerbian La scelta è tua La scelta è tua Fra Lo faccio o non lo faccio Fallo Fallo Vavissimo Lo faccio o non lo faccio Non ci credo Non ci credo Non è possibile Non è possibile Ora basta Basta La Fida è finita Non ci credo Ragazzi Io ho donato 6.000 euro 6.000 Posso stare più tranquillo Bro io vado Ci si becca Bella Bella Zerbian Io devo andare Ragazzi Mille ancora Ci becchiamo Cosa ho fatto Cosa ho fatto Cosa ho fatto